Questo video riguarda i migliori 3 rossetti lunga tenuta. Il vincitore della qualità è il Maybelline New York Kit. Rossetto con finish matte vellutato, 16 ore di tenuta e comodità grazie alla sua formula inchiostro elastico, risultato coprente no transfer, formula arricchita con pigmenti altamente concentrati per un colore intenso e vibrante. L'applicatore a punta consente di tracciare linee precise e scivola sulle labbra per rilasciare un sottile strato di formula. Rimuovere il rossetto con uno struccante viafasico waterproof, formula liquida con applicatore a punta per linee precise, definite e senza eccessi, asciugatura rapida, dermatologicamente testato, in odore, contenuto, 2X rossetto liquido Superstay Matte Ink Maybelline New York, quantità, 2X 5 ml. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Maybelline New York Tinta. Tinta labbra a lunga tenuta con finish vinilico e ad alto impatto adatto per ogni look labbra, no transfer e a prova di sbavatura. Labbra dall'effetto vinilico e dal colore intenso e saturo, aspetto luminoso e brillante all'istante, look labbra confortevole fino a 16H. Per una corretta applicazione agita la tinta per almeno 5 secondi prima dell'applicazione, quindi applica il prodotto su labbra asciutte come una normale tinta labbra e lascia asciugare. Formula vegana senza ingredienti o derivati di origine animale, applicatore preciso che fornisce colore e luminosità ottimali in un'unica passata. Il vincitore del premio è il Subski 6. Primo settembre X6 lucida labbra opaco a colori. Perfetto come regalo da inviare all'amante, alla famiglia e agli amici durante San Valentino, compleanno e altri festival. Si tratta di un rossetto opaco lucido a lunga tenuta impermeabile. Queste tonalità di rossetti sono in tazza antiaderente, anche senza sbiadire. Facile da rimuovere con olio detergente per labbra. I colori brillanti classici ti rendono più maturo e affascinante, perfetto per la festa, la vita casual, il trucco da sposa, eccetera. Ti regalano un'esperienza sexy. L'immagine mostrata è una rappresentazione dell'elemento, l'immagine può apparire più grande sullo schermo. Il colore può variare leggermente a causa dell'impostazione del colore di ogni singolo monitor. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.